Bentrovati. Oggi tratteremo brevemente di Laura Maria Caterina Bassi, più nota semplicemente come Laura Bassi. Ella rappresenta un caso unico nella storia della scienza, quantomeno nel mondo occidentale, perché fu tra le prime donne ad ottenere la laurea e soprattutto la prima donna al mondo ad intraprendere una carriera accademica e universitaria, dapprima ottenendo una cattedra onoraria ma stipendiata in filosofia universa, cioè in filosofia naturale, e successivamente, anche se soli due anni prima della sua morte, la cattedra di fisica sperimentale, e stavolta senza nessuna limitazione, ma esattamente equivalente a quella dei docenti uomini. Sì, c'erano stati in passato alcuni esempi di donne ad ottenere la laurea, come Elena Lucrezia Cordaro Pisapia, e anche donne come la Gozzadini e la D'Andrea, che sembra abbiano tenuto delle lezioni all'università, ma queste lezioni avevano carattere di sporadicità e di eccezionalità, oltre a non essere ben documentate. Labassi, invece, riuscì ad intraprendere e a portare avanti in maniera sistematica una vera e propria carriera accademica e universitaria. Laura Bassi nacque a Bologna nel 1711, ma di origini scandianesi. La sua vivace intelligenza e la sua accesa motivazione ad apprendere furono notate dapprima da un parente sacerdote e successivamente dal famoso medico Gaetano Tacconi, docente di anatomia all'Università di Bologna. Entrambi provvidero in tempi diversi all'educazione linguistica, filosofica, logica e scientifica della giovinetta, e fu proprio il Tacconi a proporre al Senato bolognese di esaminare ufficialmente le doti culturali della giovine Bassi, grazie anche all'intervento del cardinale bolognese Prospero Lambertini, che nel 1740 diverrà Papa con il nome di Benedetto XIV. E così ha inizio la carriera scientifica di Laura Bassi con l'anno 1732, che può essere definito il suo Annus Mirabilis, così come c'è stato quello di Einstein nel 1905, il 1732 fu quello della Bassi. Infatti il 20 marzo fu aggregata per acclamazione all'Accademia dell'Istituto delle Scienze di Bologna. Il 17 aprile, nella Sala degli Anziani del Palazzo Pubblico, l'odierno palazzo d'Accursio di Bologna, discusse pubblicamente, difendendole, le sue 49 tesi, suddivise in logica, metafisica, fisica e de'anima, cioè psicologia. E di questa solenne discussione rimane la pubblicazione stampa. Il 12 maggio, nella Sala d'Ercole, sempre a Palazzo d'Accursio, viene ufficialmente dichiarata dottoressa in filosofia, ricevendo le insegne dottorali. Il 27 giugno tenne all'Archigimnasium una conclusione di filosofia naturale, ricevendo la cattedra onoraria ex ufficio, la quale, anche se con stipendio, proprio causa sexus, in quanto donna, non le consentiva di tenere pubbliche lezioni senza l'autorizzazione del Senato. Infine, giovedì 18 dicembre, tenne una pubblica lezione, avente però carattere di straordinarietà, sempre all'Archigimnasium, e in quell'occasione venne coniata una medaglia commemorativa a lei dedicata. Quindi la Bassi aveva ottenuto dei grandi successi, che costituivano delle novità assolute, che furono anche portati a solennità dalle autorità bolognesi. Rimaneva però la limitazione causa sexus di cui dicevamo prima. Questo ostacolo fu però di fatto aggirato dalla Bassi, organizzando a partire dal 1749 dei corsi domestici di fisica sperimentale presso la propria abitazione, adibita così anche a gabinetto laboratorio e direi anche a sede di vivace sodalizio culturale, in via Barberia a Bologna, dove insieme al marito, il medico e filosofo naturale Giuseppe Veratti, che aveva sposato nel febbraio del 1738, teneva per otto mesi all'anno sistematica attività didattica ed effettuava esperimenti nel campo dell'elettricità, del magnetismo, dell'idrodinamica, del comportamento dei gas, dell'irritabilità degli organi, eccetera. Aveva un'utenza costituita da studenti locali, ma anche nazionali e stranieri, così come anche accademici, scienziati, letterati, filosofi, in perfetto stile illuministico. Nel 1745 Laura Bassi riuscì a far parte della classe degli accademici benedettini, recente istituzione costituita da 24 membri, ovviamente tutti uomini. Pare che fu la Bassi stessa a consigliare a Papa Benedetto XIV di creare ad hoc un venticinquesimo posto straordinario da assegnare a lei e da abolire poi alla sua morte. I soci benedettini, in cambio di una pensione annua di 100 lire bolognesi, dovevano prendere parte alle sedute accademiche e presentare almeno una dissertazione originale ogni anno. Sono pervenuti a noi i titoli di ben 32 dissertazioni della Bassi, praticamente tutte quelle che tenne dal 1746 fino alla sua morte, ma di queste 32 memorie ne sono pervenute soltanto quattro, pubblicate nei De Bononienzi Scienziarum et Arsium, Istituto Attique Accademia Commentari. La De Aeris Compressione, cioè sulla compressione dei gas, la De Problemate Quodam Idrometrico, in cui la scienziata affronta problemi di idrodinamica con metodi e strumenti matematici emergenti proposti da Bernulli ed Eulero, la De Problemate Quodam Meccanico, in cui pur utilizzando come strumento il calcolo infinitesimale con la notazione simbolica e terminologica newtoniana, nei calcoli fa ricorso alla notazione messa a punto dall'altro grande sistematore del calcolo differenziale, cioè Leibniz, mostrando così di padroneggiare gli sviluppi della matematica e seguendo il newtonianesimo, però in forma critica, cioè evolutiva. Infine, la De Immixto Fluidis Aere. Laura Bassi si occupò di fenomeni elettrici, magnetismo, gravità, ottica, meccanica dei fluidi, chimica delle arie, cioè dei gas, meteorologia, ma si occupò anche di anatomia dell'occhio e dei meccanismi della visione, partecipando altresì alle solenni sedute annue di anatomia pubblica, conciliando l'approccio newtoniano con le nuove conoscenze nel campo dell'elettricità e della sensibilità dei tessuti biologici. Studi che condussero agli importanti esperimenti di Galvani sull'elettricità animale. Oltre a questi, a Galvani, alla sua scuola si formò Lazzaro Spallanzani, suo lontano cugino, il quale più avanti coinvolgerà la Bassi nei suoi esperimenti di rigenerazione di organismi e di organi animali, di rumache e salamandre. È rimasto il carteggio Bassi Spallanzani che rappresenta un commovente esempio di profonda stima e di referenza reciproca. La Bassi fu in contatto con Francesco Algarotti, altro grande propagatore del newtonianesimo, tra l'altro autore dello snello volumetto Il newtonianesimo per le dame, uno dei primi esempi di divulgazione scientifica. Ma fu in contatto anche con l'Abbate Nollè, con Giovanni Battista Beccaria, con Roger Boscovici, con Felice Fontana, con Alessandro Volta e persino con Volterro. La Bologna del Settecento è una città che, come tante altre città europee, vive il secolo dei lumi e la sua università trova proprio nella scienza lo strumento per il suo riscatto, dopo un periodo di decadenza al quale certamente aveva contribuito la triste conclusione della vicenda galileiana con la Biura e l'esilio di Galileo, con la messa all'indice del famoso dialogo e con il divieto esteso a tutti di professare l'astronomia eliocentrica. E anche la stessa diffusione degli insegnamenti della scuola galileiana e del suo metodo certamente subì un documento, ma adesso con la fisica newtoniana ed il nuovo fervore intellettuale sperimentale che a questa si accompagnava, gli insegnamenti galileiani avevano modo di estrinsecarsi, seppur non dichiarandosi ufficialmente, ma di fatto e salendo così sul trono trionfale del nuovo spirito intellettuale. Laura Bassi, figlia ed interprete sublime di questo periodo, non fu soltanto una grande scienziata sperimentale ed una garbata didatta, ma anche raffinata letterata, autrice di componimenti e di sonetti. Laura Bassi fu però soprattutto una donna di grande ingegno e seppe utilizzare questo anche per superare con bravura, impegno e diplomazia gli ostacoli supplementari che, in quanto donna, dovette affrontare per affermarsi in un mondo senza donne, per di più conciliando tutto questo con la sua vita personale di moglie e di madre di numerosi figli. Un bel esempio dunque di donna del passato, ma anche un grande esempio per il nostro presente.